Il gestore dell'edicola colpisce con un calcio da retro uno dei ragazzi. Ha suscitato molto scalpore nei giorni scorsi l'aggressione dell'edicolante in Piazza Fiera Trento e intanto l'attenzione sulla micro criminalità è sempre molto alta. Gabriele Buselli ha sentito Salvatore Ascione, capo della squadra mobile di Trento. Dottor Ascione facciamo chiarezza sull'aggressione di Piazza Fiera, facciamo chiarezza anche su altri episodi che gettano un allarmismo forse ingiustificato. Intanto in Piazza Fiera è un fatto grave, nessuno vuole minimizzare l'accaduto, però tutto inizia perché il gestore dell'edicola colpisce con un calcio da retro uno dei ragazzi. Da lì poi i ragazzi si nervosiscono e nasce poi quell'evento in cui un ragazzo terzo, peraltro, colpisce un paio di volte il gestore dell'edicola. C'è il polso della situazione che registra magari troppo nervosismo, ci tende a esagerare nei comportamenti? Certo, è abbastanza singolare che dei ragazzi anche di buona famiglia possano mettere in atto un comportamento così aggressivo nei confronti di una persona di una certa età. Questo ci ha lasciato molto perplesso. Infatti il primo atto che ha fatto la squadra mobile è quello di andare subito e immediatamente a rintrecciare i ragazzi per capire cosa era successo. Dopodiché, da un punto di vista legale, è chiaro che siamo di fronte a un reato e noi, come impone una legge, li perseguiamo. Ci state monitorando la situazione comunque? Assolutamente. Le battuglie sono sempre sul territorio. Fatti di genere possono accadere, non dovrebbero accadere, ma possono accadere, però nel brevissimo abbiamo rintrecciato i ragazzi, li abbiamo denunciati e abbiamo riportato quello che è il giusto punto di vista.